Un piano operativo decennale per mettere in sicurezza e bonificare le discariche pubbliche di smesse dell'isola e procedere al risanamento ambientale delle aree che risultano inquinate. L'ho annunciato d'intesa con il Presidente della Regione Renato Schifani, l'Assessore regionale dell'Energia e Servizi di Pubblico Utilità Roberto Di Mauro nel corso di un incontro che si è svolto con l'Anci Sicilia.